Scoperto da Giovanni Danzi inizia ad esibirsi nei primi anni 60. Dopo avere vinto il festival della canzone di E.G. Conowi, J.S. Ice, ottiene un contratto discografico con la Karim, etichetta con cui incide i primi 45 giri. Nell'ottobre 1964 passa la Riffi, e nel 1965 partecipa ad un disco per l'estate con la canzone Innamorati a Milano testo di Alberto. Testa, e che sarà il suo maggiore successo come interprete. Nel 1967 esordisce al festival di Sanremo in coppia con Sergio Indrigo con la canzone Dove credi di andare, tornerà a Sanremo altre due volte. Nel 1969 con Una famiglia, testo di Alberto Testa, e nel 1973 con Il mondo è qui. Negli anni successivi Remigi si dedica soprattutto alla scrittura componendo, tra l'altro, per Shirley Basi ed Ombretta Colli. Il motivo di successo Cerchi nell'acqua del 1967 è stato inserito nel film Vivere per Vivere. È del 1974 la raccolta di canzoni dedicate a Milano nell'album dal titolo M come Milano. Testi di Alberto Testa. Torna a casa mamma è una delicata canzone interpretata nel 1977 con suo figlio Stefano di otto anni. Dopo essere passato alla Riffi partecipa con Arrigo Amadesi alla stesura della musica. Della notte dell'addio. Testo di Alberto Testa e musica Giuseppe Diverio inserito nel 45 giri La notte dell'addio. Caldo è. L'amore di Iva Zanicchi. E la musica di Io ti darò di più. Testo di Alberto Testa. Portata al successo da Orietta Berti e Ornella Vanoni. Scrive inoltre canzoni divertenti quali Salvatore. Incisa da Ombretta Colli. Nel 1977 conduce la trasmissione Il mercante in fiera su Antenna 59. TV locale di Cernobbio. Como. Compone anche diverse canzoni per bambini su testi di Ferdinando Pacella e Gianluigi Guarnieri. Partecipando come autore a varie edizioni dello Zecchino d'Oro. Vincendo l'edizione del 1979 con la canzone Un bambino. Dai primi anni 70 comincia a lavorare assiduamente come conduttore radiofonico per programmi. Come via Siago tende piano bar gocce di luna per radio 1. Accanto all'attività più prettamente musicale. Remigi diventa un volto popolare grazie a varie conduzioni e partecipazioni televisive a cavallo. Tra Rai ed emittenti private. Innamorati a Milano diventa sigla di inizio trasmissioni della nascente Telemilano 58. Futura canale 5. È conduttore di programmi televisivi su emittenti private prima di passare a programmi per la Rai. Tra cui qualcosa da dire con rabbia e con amore. Durante i quali introduce cantautori di quel periodo e interagisce con loro. Il suo curriculum televisivo prosegue con un varietà di Marcello Marchesi al fianco di Gloria Paul. Dal titolo per un gradino in più. Continua con il grande successo in 18 puntate dal titolo a modo mio nel quale Remigi ha come ospite protagonista per ogni puntata una grande star dello spettacolo. Lea Massari, Catherine Spack, Sandra Milo, Rosanna Schiaffino, Loretta Goggi, Claudia Mori e tante altre. L'inquilino del piano di sotto è un programma dedicato ai bambini nel quale Remigi è affiancato da Topo Gigio, con Isabella Russinova e Alberto Castagna conduce un'edizione del programma per Rai 2 De Calitri titolo. Mattina 2 continua il percorso televisivo con mitamedici per nove mesi condetto tra noi. Partecipa come ospite fisso dell'edizione del 1981-82 di Fantastico, interpretando anche la sigla di chiusura Gocce di Luna. È ospite fisso anche nell'edizione di Uno Mattina. Condotto da Paola Saluzzi, Remigi si cimenta anche come attore teatrale nella commedia Un Angelo Calibro 9 al fianco di Arnoldo Foa, Rosanna Schiaffino e Elia Zopelli. Nel 2006 è testimonial della Lilt per la campagna contro il fumo con la canzone Video Basta. Basta, sigaretta, musica di Memo Remigi, testo di Alberto Testa e Antonio Marcucci. Il video è diretto da Massimiliano Leone da Bastoni e vede la partecipazione di Roberta Potric nel ruolo di alunna. Incide anche due cd dal titolo Canzoni di sempre dedicati a Giovanni Danzi e Gorni Kramer. Nel 2008 è uscito con un doppio cd dal titolo Sembra Ieri. che raccoglie i suoi successi. Canzoni su Milano e brani inediti. È autore ed interprete di Varese Va. Inno dei Mondiali di ciclismo di Varese 2008. Di cui è stato realizzato un video cantato con alcuni campioni di ciclismo. Ha ricevuto il premio alla carriera il 9 luglio 2011 nel corso dell'undicesima edizione del Grand Prix Corallo Città di Alghero. È stato candidato nelle liste dell'Udc per la Lombardia in vista delle elezioni regionali del 2013. Torna in tv dopo tanti anni. Ospite a domenica in il 7 febbraio 2016 e ha uno mattina storie vere condotto da Eleonora Daniele. Il giorno successivo per parlare di Sanremo 2016. 16. 16.